Siamo molto felici di vincere contro una squadra molto forte in l'Italian League. Oggi la nostra voce di vincere è più grande che loro, credo. Non ho capito la ultima domanda. Più più di loro. Oggi abbiamo dato come squadra probabilmente qualcosa di più rispetto a loro. Come l'ho raggiunto? Voglio ringraziare anche loro, sono una buona squadra. E' stato molto difficile di giocare contro loro, soprattutto nel primo set. Ma dopo che abbiamo mostrato che siamo una buona squadra. Perché ogni uno dei miei amici che va nella scuola, gli dà 100%. Ha detto comunque tanti complimenti alla POMI che soprattutto nel primo set ha dimostrato una forza nettamente superiore a noi. Però vuole fare i complimenti comunque a tutte le compagnie di squadra che chi è stata chiamata in causa ha dato il 100% per l'obiettivo comune. Benissimo, grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie.